L'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nell'azione di monitoraggio sugli insetti impollinatori, sta riscontrando notevoli risultati. Abbiamo intervistato il direttore del parco, Gregorio Romano, che ci ha parlato delle api. Sono degli ottimi indicatori biologici, ha confermato il direttore, perché segnalano il danno dell'ambiente in cui vivono attraverso due fattori. L'alta mortalità nel caso di insetticidi è attraverso i residui che si possono riscontrare nei loro corpi o nei prodotti dell'alveare. Molte caratteristiche etologiche e morfologiche fanno dell'ape un buon rivelatore ecologico. È facile da allevare, è un organismo quasi ubiquitario, non ha grandi esigenze alimentari, ha il corpo coperto di peli che la rendono particolarmente adatta ad intercettare materiali e sostanze con cui entra in contatto. È altamente sensibile alla maggior parte dei prodotti antiparassitari, in particolare insetticidi, che possono essere rilevati quando sono sparsi impropriamente nell'ambiente. Per questo motivo, conclude il direttore, la nostra azione sulla salvaguardia degli insetti impollinatori sarà determinante.